Buongiorno Davido, prima di parlare di Apple che sarà la notizia frizzante di oggi vi racconto brevemente una storia in sintesi la storia del più grande errore giudiziario della storia del Regno Unito così è stata definita ma l'errore giudiziario riguarda un software altrimenti non stare qui a parlarvene è un software che si chiama Horizon che è stato installato nel 1999 da Fujitsu in realtà da un'azienda che è stata acquisita da Fujitsu appunto nel Regno Unito e che ha vinto un appalto per digitalizzare tutti i sistemi postali britannici il problema è che questo software era buggato aveva dei grossi errori nel calcolo dei conteggi proprio economici degli uffici postali e Fujitsu si è scoperto poi in questi anni, lo sapeva ma quando i dirigenti degli uffici postali contattavano Fujitsu per riferire di questi problemi strani questi ammanchi di denaro Fujitsu rispondeva che non era una conoscenza di nessun problema del software e che erano loro quindi loro direttori, vice direttori dirigenti di questi uffici postali a star sbagliando ad aver fatto qualcosa di strano per far sì che mancassero dei soldi e questi dirigenti secondo la legge britannica sono direttamente responsabili dei soldi che girano in questi uffici postali e molti di loro consigliati dei propri avvocati per non rischiare di finire in galera perché si finisce insomma in prigione per fatti di questo tipo nel Regno Unito hanno deciso di coprire gli ammanchi di tasca propria quindi indebitandosi vendendo la casa, le proprie cose e naturalmente poi subendo la disgrazia sociale e pubblica insomma di un fatto di questo tipo infatti molti sono caduti in depressione e ci sono poi suicidati questa vicenda è andata avanti dal 99 al 2015 quando con un'inchiesta televisiva della BBC è venuto insomma fuori tutto il disastro ma già anni prima c'era stata una class action portata avanti da un vice direttore di un ufficio postale che si chiama Alan Bates e che oggi è protagonista di una miniserie una serie tv creata tra l'altro dalla BBC stessa che è andata in onda e ha riportato insomma in auge questa vicenda poi magari arriverà anche in Italia quindi adesso sarete anche preparati e tra queste inchieste e questa miniserie insomma si ricostruisce che sia Fujitsu che il post office erano a conoscenza di problemi del software cioè che gli errori non erano dovuti ad attività fraudolente o a errori umani dei dirigenti degli uffici postali ma errori del software non solo si è anche scoperto che Fujitsu e quelli degli operatori di Fujitsu avevano la possibilità di accedere in remoto ai programmi installati negli uffici postali e di modificare i dati in modo magari da non far avvenire fuori alcuni errori possibilità che hanno sempre negato fino a quando hanno dovuto ammetterlo invece nel 2020 davanti a un giudice oggi Fujitsu e i suoi dirigenti dicono di essere profondamente dispiaciuti per quello che è successo grazie all'indignazione pubblica risollevata anche dalla pubblicazione di questa miniserie si è dovuto esprimere anche il primo ministro britannico Rishi Sunak che ha chiesto appunto delle compensazioni da parte di Fujitsu stessa ai più di 700 impiegati coinvolti in questa class action ma in realtà quelli colpiti da questi problemi furono più di 3.000 appunto tra il 99 e il 2015 e Fujitsu inizialmente aveva tentato insomma di non rispondere direttamente con i soldi invece adesso sembra che si sia rassegnato insomma a coprire questi ammanchi in prima persona avendo provato insomma che erano a conoscenza dei bug del software e avendo mentito sull'accesso remoto ai software stessi la reazione dei mercati è stata naturalmente negativa Fujitsu è un titolo che ha perso in borsa ma da quando si è scoperta questa vicenda cioè dal 2015 almeno secondo voi Fujitsu ha perso dei contratti pubblici nel Regno Unito o ha visto diminuire alcune commesse o il software Horizon è stato dismesso, ritirato e rimpiazzato con altro? no, naturalmente Fujitsu è saldamente al comando degli appalti pubblici nel Regno Unito è una tendenza che conosciamo in altre amministrazioni pubbliche quando ci sono delle connessioni così forti tra pubblico e privato insomma è difficile scalfire un rapporto così solido quindi ho voluto raccontarvi la vicenda molto in sintesi naturalmente del Post Office UK e dei Fujitsu se volete approfondire in Italia ho visto in italiano, ho visto che ne hanno parlato sia il post che internazionale con alcuni articoli trovate grossa copertura di questa vicenda sul sito di news della BBC quindi se volete un po' approfondire ma anche altri media ne hanno estensivamente parlato sia Ars Tecnica che The Register hanno coperto un po' la vicenda concentrandosi naturalmente sugli aspetti giudiziari perché quelli del software sono un po' oscuri non è un software open source che possiamo andare a controllare però sappiate insomma che Horizon è ancora tra noi anche se oggi dicono non avere più i problemi che aveva tra il 99 e il 2015 saremo quindi a vedere e adesso spazio a Apple Allora oggi è il 19 gennaio è tempo di riassumere cosa sta succedendo negli Stati Uniti tra Apple e Epic Games perché quella vicenda giudiziaria è andata un pochino avanti cioè c'è uno sviluppo ed è uno sviluppo abbastanza frizzante e ne parlo andando a spulciarmi un articolo anzi vari articoli vedremo però parto da un articolo italiano di dday.it scritto da Massimiliano Di Marco e dice questo pezzo insomma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha scelto di non ascoltare né l'appello di Epic Games né quello di Apple poi vedremo appello di cosa se non vi ricordate questa frizzantissima vicenda quindi quanto è stato stabilito in precedenza non potrà cambiare per Epic Games significa una sconfitta su quasi tutta la linea perché non è riuscito a dimostrare che la posizione di Apple è un abuso di posizione dominante e che App Store è un monopolio e anche Apple non è riuscita a respingere il mandato che le impone di permettere agli utenti di pagare per beni e servizi anche al di fuori dell'App Store che quindi consente agli sviluppatori di implementare altre modalità di pagamento per le app e non dover pagare il 30% che Apple trattiene su queste transazioni ha commentato poi il CEO di Epic Games che è Tim Sweeney che la battaglia legale per aprire iOS a negozi e sistemi di pagamento concorrenti è persa negli Stati Uniti ed è un triste esito per tutti gli sviluppatori perché è persa anche se poi Apple è stata costretta ad aprire ai pagamenti di terza parte poi lo vedremo ma per chi non ricorda la storia un breve riepilogo Epic Games sono i produttori dell'Unreal Engine e del videogioco Fortnite soprattutto un videogioco che è un free to play cioè è un gioco che potete scaricare e giocare gratuitamente multiplayer ma che al suo interno contiene delle microtransazioni cioè degli attività, degli asset in game che voi potete comprare pagando direttamente al produttore del gioco cioè a Epic Fortnite è un videogioco presente su tutte le console, sui PC e anche sui sistemi mobile o quantomeno lo era perché Epic ha inserito queste microtransazioni senza passare dai sistemi di pagamento di Apple su ovviamente iOS e di Google su Android e questi due grossi monopolisti insomma del settore non sono mai stati molto contenti di questa pratica infatti hanno tolto Fortnite dai rispettivi store perché la pratica di consentire transazioni fuori dai sistemi di pagamento quindi da Google Pay e da Apple Pay è vietata esplicitamente dalle guidelines degli store Epic ha ricorso in tribunale contro questa decisione e ha perso entrambe le cause quindi la app di Fortnite non si trova sugli store su Android essendo un sistema più aperto si può comunque installare in altre maniere su iOS non è proprio possibile Epic ha quindi ricorso in appello il giudice ha negato questo ricorso ed è finita qui Fortnite non potrà essere sullo store ma il giudice ha anche riconosciuto che Apple non può impedire agli sviluppatori di app almeno negli Stati Uniti di usare altri metodi di pagamento cosiddetti metodi di pagamento di terze parti e quindi Apple deve aprire a questi sistemi e l'ha fatto ma c'è un problemino Dave Aggi infatti riporta la notizia che Apple ora ha aggiornato le policy dell'app store per consentire i link a pagamenti fuori dalla piattaforma Apple Pay ma il problema è che gli sviluppatori delle app devono comunque pagare a Apple una tassa su questi pagamenti che avvengono al di fuori della sua piattaforma una tassa del 27% oppure il 12% se lo sviluppatore è parte dell'app store small business program che è un programma a parte particolare insomma a cui possono accedere alcune specifiche attività e infatti ora sono state aggiornate le app store review guidelines e peraltro si dice che a fianco a questi metodi di pagamento di terze parti le app devono necessariamente mettere anche il sistema di Apple come succede con i login cioè chi sviluppa per iOS sa bene che se si implementa un sistema di login qualsiasi sulla sua app è necessario affiancare tra le varie opzioni per forza anche un login con Apple e così è anche per i pagamenti implementando un pagamento di terze parti è obbligatorio implementare anche il pagamento con Apple Pay in modo che l'utente possa scegliere chiaramente se l'utente sceglie di pagare con un sistema di terze parti Apple gli farà notare che la scelta potrebbe essere rischiosa mettiamola così infatti Tim Sweeney che è appunto il CEO di Epic oltre ad aver chiamato questa tassa del 27% anticompetitiva ha criticato anche la modalità con cui Apple presenta questo metodo alternativo di pagamento agli utenti infatti vedete questo tweet in cui si vede lo screenshot che Apple presenta agli utenti con questo font gigantesco che li mette in guarda dai pericoli di allontanarsi dal wallet garden e sapete che è molto contrariato da questa mossa di Apple di HH, l'ottimo David Heinemeyer Hanson che ce l'ha su con Apple tra l'altro per altre vicende poi ve lo dico ha scritto un blog post naturalmente e ha commentato dice ok noi dice Apple ti permettiamo di linkare un pagamento di terze parti nella tua app ma se lo fate ci teniamo il 27% mette tre punti esclamativi sul 27% di commissione su questo link poi ti richiediamo di mandarci un financial report ogni tot settimane perché naturalmente è l'unico modo che ha Apple per sapere quanti soldi passano dai sistemi di pagamento fuori dal suo App Store poi ci riserviamo il diritto di fare audit sui libri che vendete sulle opere che vendete sulla vostra app in qualunque momento mette ancora tre punti di domanda e un punto esclamativo e possiamo comunque espellervi dall'App Store in ogni momento a seconda del fatto che ci vada o no che la vostra app sia compliant con le nostre guidelines e chiude tra l'altro non penso di aver mai visto questo livello di arroganza da una major tech da un major tech monopolist quindi da un monopolista del tech nella storia dell'industria informatica vi dicevo che DHH ha dei motivi per avercela con Apple perché recentemente una sua app cioè il calendario di Hey il suo servizio di email è stato rigettato dal review dell'App Store poi dopo è stato riaccettato solo dopo alcuni cambiamenti alla schermata di login ma chi sviluppa app mobile sia per Android che per iOS ma in particolare per iOS sa che le review sono sempre una cosa abbastanza problematica perché il reviewer che è un essere umano spesso interpreta le guidelines in modo o troppo rigido o con delle interpretazioni un po' fantasiose e quindi il rapporto non è tanto tra una app e Apple ma tra uno sviluppatore dell'app e il reviewer e c'è un dialogo per cercare di far capire al reviewer che in realtà si sta rispettando la guidelines oppure che si aggiunge un pezzetto all'app si cambiano delle schermate si cambiano alcune cose per essere insomma compliant con quello che l'app dice nel caso di DHH l'intera funzionalità dell'app era accessibile soltanto dopo una schermata di login questo non è consentito dalla guidelines DHH fa notare che ci sono altre app che invece si comportano esattamente così quindi l'app non è accessibile a meno che ci sia un login ma sappiamo anche che alcune di queste app quantomeno dovrebbero avere degli accordi specifici con Apple per consentire questo genere di comportamento oppure in qualche modo sono riusciti a convincere il reviewer non lo sappiamo insomma c'è questa disputa simpatica che poi si è risolta perché l'app calendario è stata un attimino modificata tra l'altro per mostrare il calendario con gli eventi della storia di Apple anche per fare un po' di trolling e questo è il perché anche di DHH si è così scagliato contro Apple ma ci sono altri critici della decisione di Apple e in particolare sono venuto a scoprire sono venuto a conoscenza dell'esistenza di una Coalition for App Fairness quindi CAF che è stato fondato è un gruppo fondato da Spotify, Epic Games, Tile e altre compagnie che cercano in pratica di fare lobbying contro Apple e un commento di una portavoce di Spotify di una portavoce di Spotify Jean Moran dice che il 27% questa tassa del 25% sul metodo di pagamento alternativi mostra che Apple non si ferma di fronte a niente per proteggere il loro profitto sulle spalle dei developer degli sviluppatori e anche dei consumatori nel loro monopolio nel monopolio del loro App Store inoltre dice che questa mossa è oltraggiosa e spera invece che questa tassa di Apple sia invece proibita in Unione Europea e quindi si rivolge direttamente alla Commissione Europea per impedire mosse simili ecco anche nella nostra Unione e l'executive director di CAF che è Rick Van Meter ha detto che l'approccio di Apple non darà alcun beneficio né agli sviluppatori né agli utenti e questi cambiamenti non fanno nulla per migliorare le possibilità di scelta del consumatore e tra l'altro non abbassano i prezzi dell'in-app purchase che sono questi metodi di pagamento in-app e quindi non aumentano la competizione che dovrebbe essere invece il faro delle decisioni dei giudici negli Stati Uniti Restando sempre in casa Apple ma tornando alla vicenda che abbiamo ormai seguito abbastanza da vicino in questo mese del ban alla vendita degli Apple Watch con il sensore di ossigeno per aver infranto dei brevetti di un'azienda rivale che è Massimo Technology sapete che c'era stato un appello di Apple e quindi questa la vendita era stata consentita per qualche giorno era stato tolto per qualche giorno questo ban fino alla decisione definitiva la decisione definitiva è arrivato ed è confermato che Apple non può vendere questi Apple Watch con i sensori di ossigeno quindi che cosa ha fatto Apple? ha disattivato i sensori di ossigeno quindi ci sono dei nuovi modelli in vendita nei negozi esattamente da ieri sì a quanto pare nei negozi americani che hanno disattivato completamente già di default i sensori di ossigeno invece tutti quelli che sono già in possesso degli utenti continueranno a funzionare normalmente l'app con sensori di ossigeno sarà sempre accessibile anche nei nuovi modelli ma un messaggio dirà che la funzionalità non è attiva e quindi di rivolgersi insomma all'app salute o ad altre cose e volete sapere anche perché Massimo Technology ha spinto così tanto in questi mesi per arrivare al blocco delle vendite di Apple Watch con i sensori dell'ossigeno perché ha un proprio prodotto consumer pronto per il mercato uno smartwatch con i propri sensori dell'ossigeno questa è la pura verità quindi tramite The Verge veniamo a scoprire insomma che il Freedom sarà il primo non è proprio il primo primo ma sarà uno dei primi smartwatch prodotti da Massimo Technology per il grande pubblico che si concentrerà sia sulle funzioni di salute quindi sui sensori dell'ossigeno e su altri sensori che Massimo ha sviluppato in questi anni ma anche sulle funzioni normali tradizionali di uno smartwatch quindi le notifiche le altre app eccetera e questo sarà un prodotto proprio consumer non è non assomiglia agli Apple Watch quantomeno esteticamente però insomma ne ricalca quantomeno le funzionalità vi dicevo che non è il primo prodotto di Massimo consumer però quello che aveva prodotto inizialmente non era andato molto bene ma poi era più che altro quasi uno smartband cioè un device più legato al fitness o comunque alle funzionalità di salute che è uno smartwatch completo questo invece sembra andare più in quella direzione quindi insomma Massimo aveva tutto l'interesse di impedire a Apple di vendere Apple Watch con la sua tecnologia per poter andare sul mercato con invece la sua versione ho il link di oggi molto velocemente sul blog di DHH trovate un ulteriore commento del buon David Hannemire Hanson sulla vicenda Apple il post si intitola Microsoft thought Apple nothing quindi fa un parallelismo tra le vicende da monopolista di Microsoft e quelle di Apple e fa un po' delle sue considerazioni ulteriori il blog è un pochino più lungo insomma di quello che vi ho citato prima se vi interessa approfondire cosa ne pensa DHH di questa vicenda vi consiglio anche di andare a leggere questo e l'ultimo è un post invece andiamo più sul coding qualcosa di coding ce lo mettiamo in questa puntatina e è un post in realtà che ha ormai quasi un mese l'aveva pubblicato Ryan Carniato sul suo profilo dev quindi su dev.to e si intitola JavaScript frameworks heading into 2024 quindi una panoramica di quello che ci aspetta per i framework JavaScript nel 2024 Ryan Carniato naturalmente se non lo conoscete è il creatore di SolidJS e quindi è qualcuno che ha delle opinioni piuttosto forti sul mercato e sulle innovazioni tecniche che arrivano sui framework e in particolare sui signals sul paradigma server first eccetera anche un po' di considerazioni su quello che è successo nel 2023 dicevo un po' vecchiotto ma l'ho recuperato adesso e secondo me vale la pena darci un'occhiata anche per vedere un po' qual è la visione di uno che è tanto addentro nella industria e che può darci insomma delle considerazioni interessanti quindi vi ripeto JavaScript Frameworks heading into 2024 su dev.to Ryan Carniato e con questa ho davvero finito grazie per avermi seguito anche oggi naturalmente andiamo verso un improduttivo e rilassante weekend noi ci rivediamo probabilmente la prossima settimana grazie ancora a tutti alla prossima ciao grazie per avermi seguito Grazie.